benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise nona di ritorno nel campionato di seconda divisione vediamo i risultati nel girone B in testa Salernitana 55 Pontevera 52 L'Aquila 45 Poggibonsi Chieti Aprilia 42 Teramo e Martina 37 Melfi Borgo a Bugiano Interreggio e Arzanise 32 Campobasso 31 Gavorrano Lamezia e Foligno 30 Aversa 15 Fondi 13 una vittoria importantissima per il Campobasso contro la prima della classe che veniva da 23 risultati utili consecutivi Antonio Minadeo sotto la curva norte Michele Scorrano ha messo a segno il gol vittoria commozione per il capitano rosso-blu ma bisogna dire che il risultato al di là proprio del fatto del gol della commozione dell'emozione il risultato è stato pienamente meritato da un Campobasso superlativo sotto il profilo tattico ma vediamo il servizio a nove dalla fine Selvapiana diventa pazzo di gioia quando il capitano Minadeo gira in rete un traversone di di vicino i lupi impongono la sconfitta a una salernitana che non perdeva da 23 turni bellissima giornata di sport Selvapiana molto nutrito 2500 spettatori di cui 600 da Salerno Maiella entra in campo con la figlioletta Aurora 40 secondi per uno spunto centrale di Ginestra neutralizzato da Cattenari portiere che è anche l'unica novità del lupo di Bullo rispetto alla vittoria di L'Aquila replica rosso-blu con un cross che sa di tiro al 14esimo di Esposito deviato da Dazzi dall'angolo origina una mischia con Maiella a due passi dal portiere Campano e Convoy che cade a terra e chiede un'irregolarità ai propri danni sono i rosso-blu a fare la partita Perrone disegna un elastico capace di far male in qualsiasi istante 18 minuti per un tiro tutto sommato innocuo di Perpetuini partita godibile malgrado il taccuino non offra grosse circostanze da gol al 36esimo da cross di Montervino tocca prima Gustavo poi fortuitamente Ginestra prende a terra Cattenari un minuto dopo fuori gioco dubbio fischiato a Maiella su verticale perfetta di di vicino Campani sempre pungenti al 40esimo da Montervino pallone tagliato intercettato da Gustavo che incrocia Minadeo protegge con personalità la porta niente recupero non si perde troppo tempo dopo due minuti dall'inizio della ripresa è Munar a provarci a far correre qualche brivido a Cattenari Bullo vuole i suoi alti il campo basso è perfetto tatticamente al 12esimo ecco di vicino troppo semplice per Dazzi dopo l'ingresso di Fella per esposito al 13esimo Pascucci passa sulla parte sinistra al 20esimo recupera un buon pallone Montervino vede serve Ginestra che però è impreciso i lupi non mollano di un metro e dimostrano pure di non accontentarsi quanto veleno nel mancino di di vicino al 23esimo Dazzi si supera in angolo non troppa Salernitana dalle parti di Cattenari non perfetto nell'uscita al 27esimo stacca Luciani palla a lato Bullo pensa anche a coprirsi 29 minuti applausi alla generosità di Bussi rientra Rice che smaltisce prima del tempo l'infortunio Granata con poco raziocinio al 33esimo decide di esplodere il tiro Mancini Cattenari a Branca con una buona sicurezza un minuto dopo brutto fallo del già monito Montervino su di vicino per lui è doccia prima della fine che bolgia che diventa selva piana quando di vicino taglia dalla destra e Minadeo in sacca proprio sotto la gradinata Nord Scorrano confusione incredibile i lupi sognano un'altra vittoria sarebbe la quarta consecutiva la Salernitana deve fare in fretta non porta a nulla al 39esimo il colpo di testa alto sopra la traversa del neo entrato Capua speranze di Perrone che svaniscono in curva sud insieme con il tiro fuori misura di Mancini al 41esimo 4 minuti di recupero i lupi stringono i denti e meritano la quarta vittoria consecutiva Minadeo si gode una passerella sotto la curva Nord con gli applausi che gli vengono giustamente tributati Bullo esulta ma pensa pure che adesso viene la fase clou a partire dalla trasferta di Lamezia la squadra Berretti del Campobasso sabato ha pareggiato due a due in casa della Versa Normanna Bocce ieri la bocciofila frosolonesi ha organizzato una gara regionale di bocce individuale a 128 formazioni si è giocato su tutti i campi del Molise incluso uno di fuori regione in provincia di Benevento esattamente a Ponte Lantolfo al primo posto Luigi Morlacchetti tesserato con la società Madonna e delle Grazie dei Termoli la società termolesi ha conquistato anche il secondo posto con Pietro Negro medaglia di bronzo per Giuliano Iapaolo della società frosolonese fuori dal podio sempre tesserato per la società Madonna e delle Grazie Renato Mobilia la società del presidente Pasquale Mangione sta organizzando il prossimo appuntamento 24 e 25 aprile con il Memorial Lelio Pallante calcio di serie D non ha di ritorno vediamo i risultati nel girone F Amiternina Iesina 1 a 1 Marino Termoli 1 a 3 Fidene Civitanovese 1 a 1 Isernia Maceratese 0 a 0 Recanatese Ancona 2 a 0 Renato Curi a 3 a 0 a 2 San Nicolò Limpia Agnonese 1 a 2 San Benedettese Celano 3 a 0 Pesaro San Cesario 2 a 0 In testa alla classifica troviamo San Benedettese San Cesario 54 Maceratese 49 Termoli 45 Ancona 44 Pesaro Agnone 43 Astrea 40 Iesina 35 Fidene 33 Renato Curi 32 Isernia 30 Civitanovese 29 Amiternina 27 Celano 24 Recanatese 21 San Nicolò 16 Marino 15 Con una doppietta di Sivilla L'Olimpia Agnonese tornata da Teramo in casa del San Nicolò con una bella vittoria Questo gol che tante polemiche porterà fin dentro gli spogliatoi potrebbe essere la pietra tombale sulla Serie D del San Nicolò Non basta una buona prestazione ai Biancazzurri per avere la meglio su un'Agnonese non bella ma concreta quanto basta per portare a casa i tre punti Sulla panchina Biancazzurra al posto dell'esqualificato Cifaldi che si accomoda in tribuna c'è il duo composto da Filippo Di Antonio vicepresidente responsabile del settore giovanile e Ulisse Di Pietro allenatore della Juniors Cifaldi lascia in panchina Chicco e Ragazzu lancia Padovani come punta di peso e la scelta è premiata perché l'ex albadriatica sembra in giornata di grazia un paio di buoni spunti costano due gialli per gli avversari che devono fermarlo con le cattive maniere poi è lo stesso Padovani a propiziare il pareggio dei Biancazzurri sì perché al 17esimo infatti la formazione del mister Urbano concretizza la prima vera occasione ripartendo in contropiede e passando in vantaggio grazie ad un preciso diagonale di Sivilla non passa neanche un minuto che si è subito dall'altra parte Biesella chiama il pallone Padovani ci crede fino all'ultimo lo rimette in mezzo per Paris che non sbaglia la ripresa si apre con questa traversa colto in pieno da partipillo a Merletti battuto poi Zebi mette la ciliegina sulla torta ad una giornata storta lasciando i suoi in dieci il centrocampista Biancazzurro non riesce a frenare la corsa frana su un avversario e l'arbitro gli mostra il secondo giallo nonostante l'inferiorità numerica in campo si vede un San Nicolò che gioca a viso aperto e che reclama un calcio di rigore al diciottese per questo fallo su tratti a cui forse viene pestato il piede d'appoggio in fase di partenza poco dopo Grazioso impegna l'ex della gara a Biesella che dà il meglio di sé proprio contro la società che ne detiene ancora il cartellino due minuti più tardi Merletti sceglie male il tempo dell'uscita Sivilla da due passi coglie la traversa poi ci pensa la difesa Biancazzurra sbrogliare sulla linea di porta il San Nicolò risponde con una doppia occasione per Paris il numero 11 Biancazzurra da prima tira centrale su Biesella poi prova a piazzare un tiro a giro alle spalle dell'ex San Nicolò che con un guiz salva la sua porta quando la partita sembra finita Caetà parte in posizione giudicata regolare dal primo assistente giro e mezzo per Sivilla che appoggia in rete il gol della vittoria per l'Agnonese al momento del passaggio Caetà sembra essere in linea con la difesa del San Nicolò mentre Sivilla era in posizione di certo arretrata nel momento del suggerimento di testa del compagno finisce così dopo qualche secondo la rabbia del San Nicolò che arriva fin dentro gli spagliatori anche per colpa di un presunto gestaccio di un assistente all'indirizzo di alcuni giocatori biancazzurri a gara terminata resta l'amarezza tanta e la consapevolezza che solo la matematica non mangia ancora i titoli di coda ancora un pareggio per Lisernia contro la Maceratese i molisani vengono da otto risultati utili consecutivi ma bisogna dire che ieri pomeriggio l'ha combinata davvero grossa all'arbitro di turno il signor Andreini di Forlì perché c'era un calcio di rigore in favore del Lisernia davvero grosso come una casa finisce a reti inviolate il match tra Lisernia e la Maceratese una partita che ha cambiato le sorti per i padroni di casa al 36esimo del primo tempo con l'espulsione di Lunardo ma i ragazzi di Mister Farina non si sono scoraggiati dell'inferiorità numerica neanche al cospetto della terza forza del campionato ben organizzata per carità ma che ha impensierito ben poco rispetto alla fama che la precedeva per la cronaca del match il primo squillo arriva al decimo minuto ed è di marca ospite negro da buona posizione fa un tentativo costringendo D'Arienzo a tuffarsi al ventesimo la risposta dell'Isernia con Mingione che dal limite dell'area si gira ma il suo tiro non va a conclusione il brivido vero è al venticinquesimo con Guglielmi il suo tiro al volo che illude ma è fuori e poi al ventisettesimo con Capuozzo dalla sinistra ma Carfagna è bravo a intercettare al trentaseiesimo la Tegola che cambierà il corso della partita almeno per i padroni di casa Arcolai in scivolata prende un tiro di Lunardo direttamente con la mano in area ma per il direttore di gara Andreini della sezione di Forlì è tutto regolare il numero tre bianco celeste protesta e per tutta risposta guadagna anzitempo gli spogliatoi con le immagini montate da Danilo Scarinci siamo alla ripresa e vediamo che Lisernia non si lascia battere dall'episodio e tiene testa perfettamente ai biancorossi in realtà succede ben poco al sesto gli ospiti hanno un'occasione su calcio di punizione ma D'Arienzo è bravo a intercettare al venticinquesimo ci prova Arcolai con una mezza rovesciata ma D'Arienzo è sempre pronto il finale è da brivido e lo regala Fazio in doppia battuta ma il numero uno ospite con fatica riesce a scongiurare il pericolo la maceratese perde un'occasionissima e torna a casa con bottino magro Lisernia conquista l'ottavo risultato consecutivo è un pareggio che sta stretto ma che tutto sommato regala soddisfazioni almeno a livello di prestazione sul rettangolo di gioco ha aggiunto tre punti in classifica anche il Termoli che è tornato da Marino con il risultato di 3 a 1 al diciassettesimo i molisani sono passati in vantaggio con Panariello il raddoppio è arrivato al quarantottesimo con Miani al settantanovesimo i Laziali hanno accorciato le distanze con Singleton ad un minuto dalla fine Bartolini ha messo a segno il terzo gol del Termoli mercoledì molisani di nuovo in campo per il recupero della gara in casa del Celano calcio a 5 di Serie B la Esernia per l'ottava di ritorno ha battuto 3 a 1 in casa il Monte di Procida mentre la Five ha perso a Conversano 5 a 3 nuoto il centro M2 di Campo di Pietra organizzato e vinto il primo Ok Master gara amatoriale che ha riunito nella nostra regione ben 33 società un bilancio sicuramente positivo per la squadra molisana Amelia Mascioli ai nostri microfoni Siamo con Amelia Mascioli nuotatrice e organizzatrice di questo Master Amelia come strutturate questo Memorial? Sì è la prima edizione del Memorial Master qui a Campobasso nel nostro centro sportivo prima edizione perché per la prima volta l'M2 si mette in competizione con una manifestazione amatoriale rispetto a quelli agonisti che ormai sono consuetudinarie abbiamo la presenza di 200 atleti che vengono da tutta Italia naturalmente è bello vedere l'impianto pieno di atleti che sono meno giovani rispetto agli agonisti ma che hanno ancora tanta voglia di divertirsi e di mettersi in discussione dal programma abbiamo visto tantissime gare in tantissimi stili qual è lo scopo di questo Memorial? Nuotare divertirsi e? guarda il Nuoto Master è un momento goliardico in realtà perché come a noi piace sempre dire l'Atleta Master è non solo l'hexagonista che magari ha ancora voglia di mettersi in discussione ma anche la persona che non ha mai nuotato e che si affaccia al nuoto in età un po' più avanzata e che comunque ha voglia di mettersi in discussione e di vivere poi ovviamente il momento della squadra il momento conviviale così di divertimento quindi diciamo che il Nuoto Master è sicuramente divertimento è sicuramente voglia di mettersi in discussione e poi di stare bene perché poi fondamentalmente lo sport è questo riuscire a una dimensione che ci consente di scaricare magari le tensioni lavorative e come dire di divertirsi mantenendosi in forma quali sono invece le attività future che in programma l'M2 per questa spendita struttura e per questa spendita piscina? guarda noi ogni anno cerchiamo di arricchire il nostro panorama di attività per esempio in questo stesso fine settimana a Torino abbiamo la squadra di fitness Nessinacqua che parteciperà ai campionati italiani e siamo l'unica squadra del centro sud Italia a partecipare per cui diciamo che cerchiamo di essere come dire sul pezzo e cerchiamo di essere all'avanguardia perché insomma la struttura ha delle grandissime potenzialità i nostri tecnici sono esperti ormai nel settore per cui al di là insomma delle classiche attività che sono poi quelle che più comunemente conosciute al pubblico noi cerchiamo anche di coltivare delle nicchie il nuoto sincronizzato la palla a nuoto sono attività che noi promuoviamo e che comunque stiamo cercando di spingere perché ovviamente sono magari ancora poco conosciute però comunque meritano la stessa attenzione che magari il nuoto più comunemente già riconosce e poi il prossimo fine settimana ospiteremo un evento di fitness con un presenter si chiama Salvatore Pagano della Federazione Fitness e sarà naturalmente un altro momento di divertimento di giocosità con musica abbastanza interessante insomma anche da vivere e da vedere più che da praticare basket in divisione nazionale C KO a domicilio del Benafro che ha lasciato i due punti al Benevento perdendo 71 a 66 in C regionale Vittoria Casalinga per l'NBC 96 a 70 contro gli amatori Pescara sconfitte le altre molisane ripalimosani con il San Vito Ortona 91 a 66 il Termoli in casa del Penta Basket 82 a 69 il Pescara Basket abbattuto il Campo Basket 71 a 65 turno di riposo per l'Isernia ancora calcio con il campionato d'eccellenza ottava di ritorno vediamo i risultati Boiano Sessano 3 a 2 Campo Basso 19 Montenero 3 a 1 Cerrese Fornelli 0 a 2 Pozzilli Turris 1 a 6 Roccaravindola Gambatesa 2 a 1 Sesto Campano Venafro 1 a 1 Matesina Maronea 2 a 0 Vastogirardi Montidauni 2 a 2 in testa sempre Fornelli e Boiano 57 Turris 48 Vastogirardi 47 Montidauni e Sesto Campano 43 39 il Campo Basso 19 31 Montenero 27 Venafro 24 Sessano e Gambatesa 23 Pozzilli Roccaravindola Matesina 22 Maronea 13 Cerrese 0 Vittoria del Boiano ai danni del Sessano Al Collalillo il Boiano batte l'atletico Sessano per 3 a 2 Al 14 San D'Agata da calcio di punizione conclusione centrale parata da Policano Al 24 vantaggio del Boiano con Grillo che di testa mette in rete un calcio d'angolo battuto in maniera perfetta da Vinci Guerra Al 31 Buona opportunità per gli ospiti con Antenucci che si lancia sulla sinistra ma manda di poco fuori Al 32 Grillo raddoppia al volo di sinistro dal limite dell'area forte ed angolata la conclusione che beffa di Stasi Al 41 Vinci Guerra dalla distanza manda di poco fuori Nel secondo tempo al terzo minuto 40 da calcio di punizione direttamente in porta attendo Policano che riesce a parare il 3 a 0 per il Boiano arriva al 22esimo della ripresa e ancora Grillo tutto solo a mettere in rete il suo terzo gol al 25esimo viene espulso Federico Di Lallo e Sessano che resta in 10 estrae direttamente il cartellino rosso l'incerto Monaco di Termoli al 28esimo dopo che la partita sembrava chiusa per 3 a 0 per il Boiano arriva il gol per gli ospiti seppur ridotti in 10 trovano la forza di arrivare al gol gran gol di Inno che con un forte calcio di punizione batte Policano al 31esimo dopo appena 3 minuti gli ospiti accorciano ancora le distanze portandosi sul 3 a 2 un calcio di punizione battuto da Inno arriva Fraraccio che riesce a mettere in rete uno strano tiro che colpisce il palo interno e poi finisce in rete e beffa ancora una volta Policano al 38esimo Vinci Guerra dalla distanza manda fuori subito dopo viene espulso dalla panchina il 12esimo del Sessano Perna per proteste direttamente dalla panchina al 45esimo è Corradino a mandare alto dal limite un Boiano che sembrava aver chiuso la partita sul 3 a 0 si è fatto accorciare per due volte un 3 a 2 che ha fatto tremare un po' i polsi alla squadra di Mister Carosella una squadra che si è battuta comunque a testa alta e calata solo nel finale anche per i mancati allenamenti in settimana Proprio la gara del Colalillo sarà trasmessa indifferita su Telemolise 2 canale 12 dalle 16 a 30 su Telemolise Sport canale 112 alle 20 e 30 Nello scontro Salvezza il Roccaravindola ha battuto il Gambatesa Al Mario Castaldi si gioca il match tra Roccaravindola e Gambatesa partita vinta dai padroni di casa per 2 a 1 ma andiamo alla cronaca del match il primo tentativo è subito fatale al settimo il Roccaravindola passa in vantaggio con Forte che su cross di Sisti infila il gol del vantaggio con un colpo di testa al 27esimo ancora Roccaravindola con Pittiglio che davanti al portiere sbaglia clamorosamente al 40esimo ancora i padroni di casa protagonisti con Forte ma Capobianco compie un miracolo al 43esimo si vede il Gambatesa errore di Amadou ne approfitta d'amore che si mangia un gol già fatto prendendo un palo con questo si chiudono i primi 45 minuti di gioco con le immagini montate da Giancarlo Bustelli siamo al secondo tempo dove si vede il Gambatesa all'attacco infatti al decimo ci prova Polzella ma Capaldo para il pareggio arriva al 21esimo minuto di gioco grazie a Polzella con un tiro dal cuore dell'area al 26esimo ancora Polzella che prova il pallonetto ma sfiora soltanto la traversa al 29esimo si rivede Roccaravindola con Forte che effettua un gran lancio per cambio ci prova ma Capobianco para poco male perché un minuto dopo i padroni di casa trovano il gol del vantaggio con Sisti che a tu per tu con il portiere insacca il 2 a 1 finale con questo si conclude il match vittoria importantissima per il Roccaravindola per la sua corsa alla salvezza Amaro in bocca per il Gambatesa che per vedere la sua invece deve fare un po' di più campionato di promozione ottava di ritorno vediamo i risultati Biferno Alife 0 a 1 Riccia Cliternina 2 a 3 Castelmauro Montaquila 1 a 2 Toro Vairano 2 a 3 Vinchiaturo Bussese 2 a 1 Roccasicura Ripalimosani 3 a 3 Roseto Campodipietra 3 a 0 Santeliana Roccavivara 3 a 0 in testa sempre Roseto 51 Campodipietra 45 Vairano 43 Alife 40 Cliternina Montaquila 36 Bussese 33 Castelmauro e Santeliana 31 Roccasicura 29 Riccia 27 Toro 26 Biferno 25 Rocca Vivara 20 Vinchiaturo 18 Ripalimosani 15 la Cliternina grazie al successo a Riccia mantiene i piani alti della classifica Al Poce di Riccia l'ottava di ritorno termina 2 a 3 tra Casalerice e Cliternina Vissando il risultato dell'andata la Cliternina sale in classifica crisi profonda per i padroni di casa che perdono la terza partita consecutiva a dirigere l'incontro il signor Di Nanno di Campobasso La prima azione del match è dei biancorossi con Ponte Landolfo da calcio d'angolo spazza la difesa ospite ma la palla resta lì dal limite ci prova a morrone ma tiro che va fuori al diciannovesimo arriva il gol del vantaggio per la Criternina sul rete di Aurelio complice la dormita generale della difesa avversale sul calcio di punizione di Marinucci il casale Riccia prova a reagire e lo fa al ventunesimo con De Simone per Ponte Landolfo ma tiro dalla distanza che termina dritto tra le braccia di Viscio al trentesimo occasionissima Riccia di Criscio in mezzo per Paduano che davanti la porta clamorosamente manda alto sulla traversa dopo tre minuti i padroni di casa mettono a segno l'uno a uno Ponte Landolfo dalla bandierina per Paolo Antonio che va a realizzare la rete del pareggio in superiorità numerica per via dell'infortunio di Gaspari che dopo qualche minuto rientrerà in campo al quarantaduesimo c'è il tempo anche per il vantaggio del Riccia sempre su calcio d'angolo Ponte Landolfo al centro per Di Cliscio per il 2 a 1 questo il parziale con cui le squadre guadagnano gli spogliatoi per l'intervallo con le immagini di Mario Pece veniamo alla ripresa cinque giri di lancette e la cliternina ristabilisce subito la parità tiro di De Pascalis Aceto esce ma non afferra la sfera è lì D'Alessandro che va a siglare il 2 a 2 ingenuità che costerà caro ai biancorossi che da qui in poi non riusciranno nella rimonta al decimo Ponte Landolfo da calcio di punizione per Morrone ma destro di poco alto sulla traversa al ventisettesimo il Riccia resta in dieci uomini per via dell'espulsione per Dolpio Giallo di Morrone seconda munizione arrivata per simulazione in superiorità numerica la cliternina attacca e al ventottesimo affonda il 3 a 2 definitivo Marinucci fa fuori l'uomo dormita di aceto e dalla sinistra va a realizzare il gol del vantaggio il Riccia ha l'occasione di pareggiare al trentasettesimo con Ponte Landolfo per Paolo Antonio che di testa manda di poco fuori al quarantatresimo i padroni di casa perdono un'altra pedina e la volta di Ciccotelli che fa fallo su Alberta per il signor di Nanno è rosso diretto e Riccia 9 uomini al quarantaseesimo viene avanti la cliternina ci prova Gaspari conclusione di poco a lato nei minuti di recupero c'è il tempo anche per la terza espulsione del match sempre danni dei biancorossi questa volta è il turno di Paduano che già a Monito si becca il secondo giallo per eccessive proteste termina così l'incontro con un Casale Riccia in crisi profonda Atletica il Molise è tornato da Ancuna dove si sono svolti i campionati italiani indoor master con molti titoli italiani Ivan Di Mario della Polisportiva Molise ha primeggiato nei 3.000 metri per la categoria M35 e Giulio Passot della nuova Atletica Isernia per gli M70 che ha vinto anche gli 800 metri sempre tesserata con la società a pentra Daniela Settilio che ha vinto nei 60 piani la categoria M65 campione italiano sui 60 piani tra gli M65 il nostro amico Enzo Barisciano del Cus Molise pallavolo femminile di Serie B2 la nuova pallavolo campo basso ha perso a Corato 3 a 0 successo invece tra le Muramiche per l'Europea 92 che ha battuto il Casoli 3 a 0 adesso vediamo i risultati della prima categoria Girone A Pizzone Sanniti 1 a 2 Santa Capito Montenero 3 a 4 Colli al Votturno Bagnolese 1 a 2 Forulum San Pietro Avellana 0 a 2 Mastrati Cerro 4 a 0 Pesche Civitanova 2 a 0 Real Prata Rufre 2 a 2 Valle Agricola Sant'Angiolese 8 a 1 in testa la classifica troviamo Valle Agricola 57 poi Sanniti 45 Rufre 41 i risultati del Girone B Campobasso Calcio San Giuliano 2 a 1 Carpinone Spinete 2 a 2 Casal Nuovo Macchia Valfortore 2 a 0 Olympus Kerkes 2 a 2 Cerce Maggiore Volturino 3 a 1 Oratino Fossaltese 1 a 4 Sant'Angelo Gildone 3 a 2 Torella Geosicur 1 a 4 In testa il Girone B Casal Nuovo 51 Kerkes Cerce Maggiore 43 poi Volturino 38 Andiamo a vedere i risultati del Girone C Colletorto Fiamma Larino 2 a 3 Petacciato Frentania 2 a 2 Aglima Falda 7 a 0 Campomarino Club Termoli 1 a 1 San Giacomo San Martino 2 a 2 Molise Santo Stefano 2 a 1 Real Termoli Endas 8 a 0 Torre Magliano Rotello 1 a 1 In testa Real Termoli 48 Agli 43 poi San Giacomo 38 Vi ricordo l'appuntamento con Molise a calci questa sera insieme a Gianni Bruno con ospiti in studio naturalmente commenti opinioni e la nostra attesissima Moviola Molise a calci alle ore 21 sempre naturalmente su Tele Molise e tutto buon pomeriggio Grazie a tutti